ciao benvenuti ad una nuova academy oggi niente tema tecnico ma semplicemente un'informazione su un evento molto importante che stiamo organizzando alla fine di giugno qual è il dito giusto è questo eccolo qua l'evento il procross international meeting vediamo se riesco a farvelo vedere un pochino più in grande eccolo qua questo è il logo dell'evento breeding for the green cow ci sarà una motivazione per cui l'abbiamo chiamato così la scoprirete se verrete nostri ospiti al meeting e alla conferenza vi dico qualche cosa che cos'è l'international meeting praticamente tutta la comunità internazionale di procross si ritrova a scadenza ovviamente dopo due anni di covid dobbiamo riprendere tutti quanti i contatti l'ultima volta è stato in portogallo la volta prima in olanda e questi meeting hanno lo scopo di avvicinare il mondo della ricerca procross ha sempre investito molto nella ricerca scientifica e gli allevatori e far vedere i risultati far vedere la realtà come sono fatte le vacche anche semplicemente socializzare e chiacchierare adesso vi dico qualcosa su come dovrebbe andare questo evento allora si comincia sono due date mercoledì 29 giugno è la prima 29 giugno la sede è a reggio emilia ci sarà una mattinata 8 e 30 12 e 30 riservata alla conferenza scientifica la conferenza vedrà relatori sia italiani che internazionali si tratteranno molti temi relativi sia allo specifico di procross sia in generale all'allevamento della vacca da latte al termine ci sarà una tavola rotonda con un coordinatore con un moderatore quindi sarà possibile rivolgere domande sia a chi intervenuto semplicemente esprimere le proprie idee le proprie opinioni riguardo all'argomento poi avremo un pranzo al sacco abbastanza veloce perché poi dopo pranzo ci trasferiamo presso l'azienda ciao latte che si trova a noceto in provincia di parma e in questa azienda vedremo sia le vacche sia il caseificio l'azienda è strutturata su tre stalle diverse noi ne visiteremo principalmente una e poi ci sarà appunto la visita al caseificio con anche una degustazione di parmigiano reggiano fatto da loro poi nel pomeriggio facciamo una cosa molto divertente che è una gara di tiro con l'arco e vi invito a partecipare a venire e a divertirvi a giocare anche insieme a noi per essere non soltanto focalizzati su pacche e numeri e dati ma anche per stare insieme in compagnia faremo una merenda con un gelato quindi mangeremo qualcosa di rinfrescante e poi alla sera facciamo un barbecue all'aperto veramente una cosa molto molto bella a cui mi piacerebbe che voi voleste partecipare ovviamente mi auguro di vedervi anche agli eventi precedenti della giornata la giornata di giovedì invece 30 giugno è simile quindi sempre 8 e 30 12 e 30 la parte di conferenza con relatori come vi ricordo anche dall'estero avremo presenze anche penso significative dall'italia sempre un pranzo al sacco perché poi ci trasferiamo e a questo punto andiamo a visitare un'azienda tra le più grosse nel comprensorio del parmigiano reggiano che è l'azienda al balac di carpi in provincia di modena che sono circa 900 vacche in latte e poi ci trasferiamo presso l'azienda giaroli di reggio emilia dove si mungono circa 500 vacche in latte con caseificio aziendale interno e alla fine ci sarà la cena finale che faremo in un agriturismo della zona con saluto e la rivederci alla prossima edizione quello che mi preme dirvi è che tra pochissimi giorni ci sarà la presentazione del nostro nuovo sito online il sito di genesi project quindi state sintonizzati verrete informati attraverso i social attraverso i nostri canali di comunicazione abbiamo fatto un sito molto snello molto molto moderno abbiamo necessità di essere molto più comunicativi verso di voi e abbiamo un sacco di materiali da condividere con voi informazioni o anche solo curiosità in questo nuovo sito troverete una sezione dedicata proprio a questo meeting pro cross dove potrete iscrivervi e vi invito a farlo o anche già adesso a mandarci una vostra segnalazione di partecipazione vogliamo sapere se sarete presenti il mercoledì o piuttosto il giovedì o entrambi i giorni che si farebbe molto piacere nel qual caso vi servisse assistenza per una camera d'hotel ovviamente non esitate a contattarci ci piace sapere se sarete presenti alla conferenza o preferite venire alla visita nel pomeriggio o preferite venire agli eventi del tiro con l'arco e del barbecue quindi essere un pochino più conviviali potete portare i figli potete portare le moglie le vostre famiglie l'unica cosa che vi chiedo è di farcelo sapere in anticipo perché per motivi organizzativi dobbiamo ovviamente strutturarci tra l'avere 100 o 200 persone ovviamente potrebbe fare la differenza ma siamo in grado di affrontare qualunque problema logistico la stessa cosa se invece pensate di venire a giovedì fateci sapere se sarete alla conferenza se verrete con noi al pranzo o a visitare le aziende se volete venire alla cena o se volete fare tutto il programma della giornata anche questo ovviamente ci farebbe soltanto piacere questo è come si svilupperà praticamente il meeting in questi due giorni io vi invito fin d'ora a segnarvi le date 29 e 30 di giugno di quest'anno e scriveteci che cosa volete fare se volete partecipare alla parte scientifica poi se volete iscrivervi a un nostra newsletter vi manderemo comunque gli estratti delle presentazioni una parte degli eventi che vi ho dedicato che vi ho elencato verranno comunque trasmesse in streaming sulla nostra pagina facebook per cui potrete anche seguire da casa volendo e potrete anche intervenire fare domande o semplicemente guardare i nostri le nostre riprese il tutto verrà documentato ci sarà una parte di filmati e di foto molto corposa e quindi non mancheranno le documentazioni ci vediamo il 29 30 giugno di quest'anno al meeting internazionale di pro cross la nostra occasione per rivederci stare insieme divertirci perché no sorridere e vedere qualcosa e sapere qualcosa di nuovo sul fenomeno pro cross a livello internazionale con questo vi saluto ci vediamo la prossima accadevi torneremo a parlare di qualcosa più tecnico ma ci tenevo a darvi queste informazioni sul meeting ciao a presto ciao a presto